Buongiorno, vi rubo solo pochissimi istanti per condividere con voi una questione personale ma che ritengo importante che voi sappiate. Mio figlio di ritorno dalla vacanza dalla Sardegna è purtroppo risultato positivo al coronavirus. Sta bene, in questo momento si trova nella sua casa in provincia di Varese dove vive e dove lavora. Non è rientrato per niente ad Orvieto ma dalla Sardegna è rientrato direttamente nel nord Italia. Con la ASDA abbiamo rintracciato tutti i contatti che lui ha avuto durante la vacanza. Alcuni di questi sono già stati sottoposti a tampone e sono fortunatamente risultati negativi, altri sono in corso di accertamenti. Il motivo per cui ho deciso di condividere con voi questa notizia è perché desidero richiamare soprattutto i giovani alla massima attenzione e all'uso di quelle misure di precauzione che sono utili ad evitare il propagarsi del virus. Purtroppo il virus ancora circola e circola molto tra i giovani perché c'è stato un allentamento di tensione preoccupante. Noi come amministrazione stiamo adottando tutte quelle misure di controllo che possiamo adottare però è chiaro che serve da parte nostra il comportamento giusto e soprattutto il buon senso. Quindi io auguro a voi tutti di trascorrere questa fine estate in maniera serena, in maniera sicura. Cerchiamo di essere attenti, cerchiamo di essere rigorosi e soprattutto a voi giovani l'invito è di usare il buon senso, di divertirvi ma assolutamente mantenendo tutte quelle misure di precauzioni che sono necessarie per evitare il propagarsi del virus.